Ma intanto parlare del caso di Via Poma è sempre una cosa da fare con molta accortezza tenendo conto non soltanto che c'è un processo aperto ma che ci sono persone che soffrono ancora a distanza di tanti anni e soffrono tantissimo, ci sono i familiari della povera Simonetta ci sono se posso dirlo anche i familiari di Raniero Busco che attualmente è imputato che si trovano comunque coinvolti loro malgrado in qualche cosa che è sicuramente altrettanto doloroso in un altro verso la storia che io racconto in Tu sei il male è una storia ovviamente di fantasia i punti di collegamento che ha con Via Poma sono legati al fatto di questi delitti risolti di questo fatto che una ragazza viene uccisa e viene uccisa in un contesto tra l'altro di un condominio insomma molto messo in un posto dentro la Roma Bella e nonostante che il tutto avvenga in condizioni in cui la polizia interviene quasi subito poi a distanza di tanti anni le indagini sono ancora a questo stadio. Su Via Poma con tutte le cautele del caso quello che dispiace molto è che probabilmente le indagini all'inizio furono un pochettino superficiali, ci sono delle cose che sappiamo a distanza di tempo, che non fu rilevata la temperatura corporea del cadavere che non fu sigillata la zona per cui apparentemente pare che i cassonetti dell'immondizia in cui probabilmente potevano essere i vestiti mancanti della ragazza furono portati via è tutta una serie di cose che generano proprio queste il fatto che oggi ci si trovi in una situazione di totale incertezza. Ci sarebbe da chiedersi se queste nuove prove scientifiche che giustamente vengono chieste ci potranno mai portare a quella che con la V maiuscola è chiamata la verità perché francamente il dubbio che io ho, che mi permetto di dire è che con tutte le prove scientifiche ulteriori che si potranno fare a distanza di tanto tempo la verità difficilmente, la verità quella che si chiama verità certa non l'avremo mai e quindi chiunque sarà chiamato a giudicare sarà chiamato a giudicare in condizioni di incertezza e a quel punto si apre un altro discorso che è giuridico ed etico e che teniamo separati dal punto di vista pratico il DNA è sicuramente una prova molto utile e molto importante ma siccome è una prova che ha una base statistica e probabilistica essa è tanto più forte, è statisticamente valida, tanto più rilevante e ben conservato è il campione di sangue in questo caso su cui la prova si basa e francamente anche su questo ci sono tanti di quei dubbi da lasciare pensare che difficilmente raggiungeremo poi delle certezze e giudicare un caso di questo genere in condizioni di incertezza credo che sia un compito francamente complicatissimo per chiunque perché in tutta coscienza noi sappiamo che in questi casi si tende ad assolvere nel dubbio perché il rischio di condannare un innocente è considerato più grave che quello di assolvere un colpevole d'altro canto io penso che sono passati così tanti anni che in qualche modo sia necessario prima o poi mettere una parola fine di qualche genere a questa storia